oh raga buona domenica a tutti sono qua con Tommaso che sta andando come una liffa e stiamo nelle campagne e perché sto facendo questa diretta intanto Tommaso sta facendo motocross che figo che è ragazzi cioè va come un proiettile non ha paura di niente sta andando come un disperato e adesso vi faccio vedere come viene su da questo pezzo di salita perché viene fuori come un proiettile sentilo eh gas a martello gas a martello dai 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 giù vai giù 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 oh raga allora vi sta facendo questa diretta intanto per farvi vedere che Tommaso si sta divertendo un disperato con la sua nuova motoretta perché è un fatto che è un fuori di zucca ma soprattutto per ricordarvi anzi ricordarvi no è una news che mi hanno appena dato mi hanno dato stamattina ho aspettato questo evento del motocross con Tommaso per dirvi che domenica 21 cioè praticamente tra sei giorni sette giorni arriva 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 è un missile è un missile tra sette giorni domenica 21 saremo sarò saremo porte aperte al museo della scienza della tecnica domenica 21 al museo della scienza della tecnica io alle 10 presenterò il libro sarà la seconda tappa del tour in tour con Ema dove andiamo a vedere il libro ci raccontiamo un po' di domande raccontiamo un po' la storia di Ema e ci sarà giù anche un presentatore che è un figo atomico un carissimo amico saremo nell'area del cenacolo di Leonardo da Vinci al museo della scienza della tecnica mi raccomando l'evento è totalmente gratuito venite con i vostri figli perché si può entrare gratuitamente alle 9 e 45 per incominciare la festa all'evento per incominciare l'evento praticamente alle 10 dalle 10 fino alle 11 io presenterò ci sarà il film a copia all'evento venate a fare un po' di bordello un po' di un po' di gadget che vi porterò e ovviamente fino a fare un po' di bordello per un'oretta io non resto a staccare gli occhi di ma guardate come viene su c'è cassa a martello non molla niente è un figo quindi ragazzi domenica 21 ci vediamo al museo della scienza della tecnica ingresso gratuito 9 e 45 ci sarà sicuramente anche Tommy con la sua super moto a cannone dove raccontiamo un pochino la storia del libro la storia di Ema ci facciamo quattro chiacchiere porterò un pochino di gadget non ne porterò tantissimi ma l'evento mi raccomando invitate tutti gli amici adesso qua sotto creo anche l'evento per poter partecipare perché l'evento è aperto davvero a tutti e ci divertiamo intanto Tommy Tommy lo fermiamo un secondo perché quello non si ferma più è un mito è un mito vieni qua aspetta fermati quello col cassa è un martello già mi hai visto spegni la moto spegni la moto cosa dobbiamo dirgli ai nostri amici che ci vediamo dove a Milano quando domenica 21 domenica 21 siamo al museo della scienza della tecnica per presentare il libro di papà e tu adesso cosa fai con la moto andiamo avanti a farci un giro? si tutto il giorno qua stiamo salutiamo i nostri amici? ciao ciao noi andiamo avanti a fare un po' di impennate buona domenica a tutti ragazzi oh mi raccomando domenica 21 a Milano museo della scienza della tecnica ci sarà anche Tommaso presentiamo il libro 9.45 nella sala del cenacolo di Leonardo da Vinci ci sarà giù il libro faremo un po' di firme un po' di gadget un po' di bordello non tanto perché lì la roba costa domenica 21 ragazzi vi aspetto ciao 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 ciao